Noi abbiamo rifiutato la poetica, abbiamo usato le parole che si usano per la strada. Ascoltando la musica dei cantautori la coscienza viene scossa. Vedere mio padre sempre con la chitarra in mano da quando ero piccolo mi ha stimolato tantissimo. Questa è la chitarra più vecchia di Fabrizio e su questa chitarra sono nate tante canzoni. Credo che non sarei esistito senza Genova, non avrei fatto quello che ho fatto se non fossi nato qua. I vicoli di Genova, il mare di Genova, la gente di Genova ruvida come i calli delle mani di un marinaio. In una città come questa non si può far altro che scrivere in maniera non banale, perché non è una città banale. Rappere e cantautori è un accostamento che è stato fatto da quando ho iniziato a fare questa musica. I ragazzi del rap sono contemporaneamente dei cantautori e anche di più, sono qualcosa di diverso.